Vigurlamezia che attacca verso nord, ricordiamo Mangiapane, vediamo quest'ultima azione è allo stacco di testa poi di Di Sole che è lontana, poi arriva Catania al volo, la valla è ribattuta ancora Tidei, non è finita, attenzione Mangiapane prova questo grande cross per Regni attenzione, azione gol per la Vigurlamezia, Chiricò, il portiere salva, salva il portiere davvero un grande miracolo sul primo palo Chiricò, è evitato un avversario, ha esploso il sinistro bello il portiere, il portiere Bardet, sale in cattedra, ha salvato con i piedi distinto un'azione gol della Vigurlamezia, ancora la Vigurlamezia, Rondinelli, attenzione si lascia sorprendere Rondinelli, il pubblico invadisce contro di lui, fa chiudere l'azione